Lo sport, i valori che esso incarna, la potenza dell'immagine che da esso viene generata, è diventato uno strumento di appeal tra i più utilizzati dalle aziende per incrementare il proprio indice di notorietà. A Treviso opera da vent'anni Verde Sport, braccio operativo della ramo sportivo per il gruppo Benetton, forte di un'esperienza e di una notorietà consolidate a livello internazionale grazie ai successi di Benetton Basket, Sisley Volley e Benetton Rugby. Verde Sport ha creato attorno a sé una rete di quasi 300 aziende partner che hanno scelto di abbinare il proprio marchio alle squadre o alle facilities controllate per far compiere un salto di qualità alla propria immagine. Riuscire a dialogare con un mondo di oltre 300 partner non è assolutamente semplice. Inoltre come Verde Sport avevamo l'esigenza di portare al dialogo e alla collaborazione reciproca tutte queste aziende che sostengono il nostro mondo così variegato. Per questo grazie anche alla partnership tecnologica con un colosso del settore come la IBM siamo riusciti a creare un prodotto assolutamente innovativo nel panorama sportivo europeo, il portale Bicom, una soluzione che ha già fatto parlare di sé molto sui media e che sicuramente comincia ad essere apprezzata anche dalle aziende partner del gruppo Verde Sport. Bicom è un portale che associa le potenzialità di internet alle capacità relazionali delle aziende presenti, nato grazie alla partnership con IBM, leader nel mondo della tecnologia ed alla sua business partner Yark. È molto originale l'idea di Verde Sport di utilizzare un portale per il business e per coniugare al business i valori dello sport. Mettere insieme il mondo dello sport e il mondo della tecnologia è stato per noi estremamente semplice perché queste tecnologie sono molto elastiche e quindi sono prestate anche a questi scopi che normalmente non sono quelli di un portale.